Musica Siamo con Giuseppe Gatta che ha appena finito l'allenamento Martedì scorso ti eri infortunato in allenamento, oggi come va andato? Oggi ho fatto un lavoro un po' diverso dagli altri anche per stare attento e cercare di recuperare il dito l'infortunio che ho avuto martedì però ci sono domani ancora venerdì, poi sabato quindi ci sono abbastanza giorni per riuscire a recuperare perfettamente la mano Quindi domenica sarai sicuramente in campo? Sì, sì, penso che non ci dovrebbe essere nessun problema Arriva la partita più importante del campionato del Lecce questa partita contro la Lucchese, importantissimo vincere Lucchese che però è una squadra da prendere con le pinze Sì, anche perché non bisogna mai sottovalutare nessuna squadra anche se la Lucchese ormai ha finito il campionato, si sono salvati però noi dobbiamo entrare in campo come siamo entrati domenica a Bologna con la voglia, con la massima concentrazione e sapendo che con questa partita ci giochiamo tutto il campionato Il pubblico che ruolo può svolgere domenica prossima? Ma è importantissimo Entrare in campo e vedere lo stadio pieno sicuramente aiuta parecchio e quindi sarebbe appunto l'ideale domenica riempirlo così che magari alla fine festeggiare tutti assieme Grazie Ciao